Scegli Coconato Automobili, scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili, vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili, ospita la gentile clientela nella propria sede. Incontra da Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com Si è alzato il sipario sulla non-edizione della rassegna di teatro cabaret e musica prima fila 2010-2011, organizzato dall'Associazione Culturale 900. Il ciac d'inizio, come ormai consetuti, nel 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Sul palco del teatro Sibaristi di Castrovillari, tre cabarettisti. Il pugliese Bruce Ketta, reduce da Zellig, e Colorado Caffè 2010. Il romano Oscar Biglia, anche lui proveniente da Zellig. E il marchigiano Niba da Zellig. Come va? Come va? Io sono contento di essere qui, io sono meridionale, anche se non sono calabrese, sono di origine pugliese, capisci che sono pugliese? Allora, ve lo dico io. Io sono pugliese, sono balese da parte di mia madre e foggiano da parte di un amico di mio padre. Io lavoro a Milano, ma vi racconto la giornata di uno che lavora alle poste. L'altra mattina, bello, calmo, tranquillo, arrivo in ufficio, mi ferma il mio caporeparto e mi fa «Senti, come mai ieri non sei venuto a lavorare?» Dico «Perché hanno cremato mia suocera». Fa «Madonna santa, mi dispiace, è come morta durante la cremazione». «Quante api in un alveare, le dovete indovinare?» «Ma noi Oscar, queste api, non ci importa niente?» «Provate a indovinare ugualmente, siamo pronti?» «Ragazzi, non mi dedete?» «Si alza tardi, la mattina, sua maestà, l'ape...» «Metrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo». «Andiamo, vieni fuori, lurido bastardo!» «Ancora comicità per il nuovo anno, domenica 2 gennaio, sarà la volta di...» «Giancarlo Calabrugovic, un straordinario attore, cabarettista di eccezionale importanza». «Poi il 26 febbraio, niente poco di meno che Giovanni Cacioppo, storico, comico, siciliano, a calcare le scene del Sibaris».